Ragazzi, in questo video serale diciamo, chiamiamolo serale, innanzitutto volevo dirvi che comunque molti di voi mi hanno fatto notare che io effettivamente credevo all'Europa, cioè era una mia convinzione abbastanza importante, abbastanza spinta, infatti appunto io ci credevo. Questo è solo un video che magari riguarderò alla fine del campionato e se ci avrò ragione, benissimo, se non ci avrò ragione metterò questo pezzo e io in questo momento dico che secondo me non andremo in Europa, non si finirà in conferenza, non si finirà da nessuna parte, si farà un altro anno anonimo, fortunatamente non in zona retrocessione ma anonimo. Oddio, mi merito gli insulti, però ragazzi scusate, ho dovuto esprimere una mia opinione, meno male era sbagliata. Molti mi hanno chiesto appunto, prima di parlare appunto del caso Torreira, mi hanno chiesto, ma cosa ne pensi te? Cosa ne pensi di questo caso Torreira? Cosa ne pensi? Cosa è successo secondo te? Io ho detto ragazzi, allora facciamo una cosa, prima aspettiamo che parli commisso, poi in teoria dovrebbe parlare ancora Pradè, però non voglio dilungarmi oltre anche perché molto probabilmente penso che sia uno scenario abbastanza delineato. Ragazzi, appunto, come ho appena detto, ho anche assistito alla conferenza, conferenza, all'intervista a commisso, cioè un'ora di intervista sembro io quando non sapevo niente a scuola che mi venivano a chiamare interrogato. Una super cazzola infinita, dove poi tra l'altro molte volte, penso che i giornalisti siano stati probabilmente costretti, tutti quelli che gli hanno fatto delle domande, poi tutte domande di circostanza, senza niente di specifico, roba strana comunque, a non dire niente di Torreira. Perché effettivamente da quando siamo entrati tutti, i 2000 che erano a vedere l'intervista, sotto nei commenti c'era solo una domanda. Ma Torreira, che cazzo, ma, eh? E quindi ragazzi volevo un pochino snocciolarvi questa piccola intervista. Allora, più che altro tanti perché, tanti perché, prima di tutti che mi ha fatto proprio salire il sangue al cervello, che va bene che ci sono costi, che va bene che si sta facendo il Viola Park, che va bene che si sono investiti tanti soldi sul mercato e comunque se ne sono investiti sia in estate che a gennaio. Ma ragazzi, da Vlaovic e Chiesa, in totale, vengono fuori quasi 140-150 milioni. Quest'anno, se vogliamo fare i propri conti in tasca alla società, da Vlaovic ce ne vengono fuori una settantina, 75 e i 40 rimanenti da Chiesa. Quindi in totale sono 110, una roba del genere, 115. Commisso afferma che ne abbiamo in realtà una cinquantina per poter, appunto, usare sul mercato. Ma dove sono finiti? Ma per cosa li utilizzi questi soldi qui? Sono veramente tanti, cioè nel senso, o tu li utilizzi per un progetto veramente futuro che ci vuoi lasciare nascosti tutti, o comunque magari dici che ne userai 50 e poi tu ne userai 80 senza creare un hype inutile e mi può anche andare bene. Però se tu me ne usi davvero 50 su questo calcio mercato che sarà quest'estate, mi viene, cioè capito, un po' a tutti viene da, vabbè, va bene, ok. Una conferenza stampa, ragazzi, alla fine un'intervista senza certezze, perché comunque l'unica certezza effettiva all'estate è stato che Lea Fiorentina non è in vendita, ma comunque più o meno si sapeva che effettivamente poteva essere una fake news questa, ed è stata effettivamente l'unica cosa che commesso ha detto, ragazzi, no. Cioè, noi volevamo delle risposte in questa intervista, abbiamo avuto solo questa, che effettivamente non è che ce ne fregasse più di tanto, perché più o meno si poteva capire che l'era una mezza fake news. Poi, caso Torre, ragazzi, la cosa mi fa più incazzare, mi farebbe più incazzare, ora tanto non c'è bisogno di starvela a dire, perché tanto lo sapete tutti come si è evoluta la situazione, il giocatore comunque ha espresso tante volte, con messaggi comunque subliminali, senza esprimersi proprio a parole dicendolo chiaramente, ma comunque lo si è capito, che vuole rimanere a Firenze, che si trova bene, che comunque vorrebbe rimanere tranquillamente, quindi vorrebbe essere riscattato dall'Arsenal. Ma, ragazzi, allora, se davvero c'entra, come ha detto Commisso nell'intervista, solo, solo, il discorso procuratore, e che quindi il procuratore di Torreira c'ha la mamma maiala come Ristic, io penserei, ragazzi, cazzo, basta, questi procuratori hanno rotti i coglioni. Ma io penso, penso, che il carico dal 90 ci si è messa anche noi, ce l'ha messa anche la società, perché ovviamente Commisso non dirà mai, ragazzi, scusate, il procuratore di Torreira gli ha un figlio di puttana, però anche noi ci si è messo la nostra colpa e non lo dirà mai, perché giustamente è lui che l'è a capo della società. E' come dire che appunto il capo della società della Coca-Cola dice, ragazzi, c'è dentro della roba che non fa bene, non lo dirà mai, ovviamente, per interesse, mai interessi personali, ma anche giustamente. Però la cosa appunto più grave è che, a differenza di Vlaovic, che era un giocatore che si sapeva che sarebbe andato via e che quindi era un'operazione di mercato sbagliata per le tempistiche, non tanto per il fatto che doveva andare via, perché comunque si sapeva che sarebbe andato via, però mandarlo via a gennaio è stata effettivamente una scelta sbagliata perché se li sono visti tutti, anche se comunque, oddio, ma è arrivato qualunque cosa, la società alla fine ci ha portati in Europa, l'avevano detto, commesso l'aveva detto tre anni fa, ragazzi, guarda, in circa due o tre anni vi riporterò dove la Fiorentina merita. Quindi chi critica commesso sotto questo punto di vista non capisce niente, perché effettivamente, ragazzi, l'ha rispettato, non siamo in Europa League, ma siamo comunque in conference, cazzo, guardate che indosseranno l'anno scorso. Però se si pensa invece al discorso Torreira, a differenza appunto di Vlaovic, che voleva andare via, Torreira vuole rimanere. Quindi se davvero lo si manda via, o comunque non si riscatta per delle scaramucce tra società, procuratore e anche Arsenal, molto probabilmente, perché la società appunto voleva uno sconto sia sull'ingaggio che sullo stipendio, magari anche del giocatore, e non ci sia riuscito ad arrivare ad un accordo e quindi si è tagliato di netti ponti, mi farebbe incazzare ancora di più, perché vuol dire che te tu mandi via, il giocatore più forte che hai in rosa, o comunque più importante che te hai in rosa in questo momento, perché i bambini non sanno giocare per bene, ma litigano tra di loro. E allora lì, e allora lì, lasciami dire che mi fa incazzare, mi fa incazzare. Io spero che non sia solo per questo. Io spero davvero che ci sia altro dietro. E poi comunque, se vogliamo dirla tutta, diciamo che Commisso nella sua intervista ha fatto capire che non ha completamente tagliato i ponti con Torera, ma ancora c'è una piccola speranza di trattenerla a Firenze. È vero anche che dicendo così tu mi stai dicendo il 90% va via, 10% resta, quindi a me mi gira il cazzo lo stesso. Io, allora ragazzi, sinceramente non so che dirvi, perché l'intervista di Commisso mi ha lasciato molto, molto, molto dubbioso. Perché noi, appunto, come ho detto prima, si voleva delle certezze, certezze non ci sono state, non ce le ha effettivamente date. E questa cosa della società, che comunque, nonostante in qualche modo rispetti le tempistiche, rispetti anche il volere, se vogliamo, anche della tifoseria, però il fatto di non ascoltare, tagliare completamente i ponti con la tifoseria effettivamente vera, tra loro e la società, appunto, che non stanno ad ascoltare, ma che comunque stanno a guardare, ma che non rispondano attivamente alla tifoseria, alla tifoseria diciamo delle domande intelligenti, non delle domande idiote, mi fa storcere il naso, perché effettivamente se te vuoi essere una buona società di calcio, comunque un contatto con la tifoseria lo devi anche avere. Io, tutte le domande che ci sono state dei giornalisti, nell'ultimo quarto d'ora alla fine c'è stata la domanda davvero su Torrella, perché molto probabilmente uno si sarà anche rotto il cazzo e la buona Rossella, ovviamente, lei beata, insomma, santa lei che sta lì, nonostante ci sia stato un collegamento di merda per un'ora intera, che è riuscita comunque anche a dire, ragazzi, allora, però facciamo una cosa, ce lo stanno chiedendo da un'eternità, ma Torreira, e tutti lì si era, oh, alleluia, però comunque si è avuto una risposta un pochino di circostanza anche lì. Io, ragazzi, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, non so cosa pensare, perché effettivamente Torreira è un giocatore che deve rimanere a Firenze, è troppo importante, o la società pensa, e anche italiano, perché ovviamente anche l'allenatore c'entra in questo caso, perché penso che anche lui ci abbia voce in capitolo, che Amrabat possa essere essenziale, possa bastare per una Fiorentina dall'anno prossimo in poi, e che magari arrivi un rinforzo quest'estate al posto di Torreira, però un giocatore che quest'anno ti ha fatto 5 gol da mediano, che è talmente essenziale per il gioco d'italiano, che anche un possibile sostituto a quelle cifre lì, dove Hatz lo trovi, dove Hatz lo trovi, cioè si parla comunque di 15 milioni, non di 40. Io, ragazzi, nulla, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate dell'intervista di Commisso, del caso Torreira, se ci si farà davvero riscattare, poi ora aspettiamo l'intervista di Pradè, e da lì tireremo le conclusioni, però volevo comunque parlarvi, e volevo farvi sapere la mia. Niente, ragazzi, sempre Forza Viola, e ora guardiamo quest'estate cosa succederà, e appunto aspettiamo anche l'intervista di Pradè. Ciao, ragazzi.